Ecco, siamo live alla scuola della Bartolomeo Capasso. L'azione che si è appena conclusa invece è la consegna di alcuni strumenti musicali consegnati attraverso l'Istituto di Studiadellani, qui la vicepresidente Ima Pezzullo e la prof che sostiene questi ragazzi nel campo musicale, Sonia Del Santo. Ima, ci diamo del tu perché ormai è una consietudine quella di dare voce all'Istituto di Studiadellani perché diamo voce in questo modo alla cultura, in questo caso alla musica e dopo sono arrivati questi strumenti che sono stati regalati alla Bartolomeo Capasso. Questi strumenti sono un dono che l'ingegner Fiorentini di Milano e la Vemac SRL dell'area PIP di Fratta Maggiore hanno voluto donare a questa scuola in virtù di un protocollo d'intesa con l'Istituto di Studiadellani, di un'iniziativa che abbiamo voluto chiamare Adotta Musicista. Siamo convinti che la sinergia fra territorio, associazioni scolastici e imprenditorie sia il futuro della nostra società e poter vedere questi ragazzi che oggi si sono esibiti per noi è stato un motivo di soddisfazione. Siamo certi che altre iniziative del genere seguiranno sul nostro territorio perché a breve consiglieremo un voucher dell'eguale importo speso oggi alla scuola Genoino e alla scuola Massimo Sanzioni di Fratta Maggiore per il progetto Adotta Musicista. Del resto questa è la città di Francesco Durante e c'è anche un festival che proprio l'Istituto di Studiadellani porta avanti alle nostre spalle l'aula musicale intitolata Giovanni Battista Cutolo. Le tue note suoneranno sempre nei nostri cuori. Questa è la targa che l'Istituto Capasso Mazzini di Fratta Maggiore ha dedicato perché crede nella musica, crede nella cultura. Crediamo nei giovani soprattutto la speranza per il futuro a cui noi dedichiamo il nostro lavoro e speriamo adesso sotto quest'albero di scartare queste due donne grazie e di donarli in comodato russo ai ragazzi promettenti sicuramente capaci con dei limiti ma con un certo di capacità. Bene l'appello, approfittiamo di Mavezzulla e agli imprenditori e a chi può donare insomma la gioia di uno strumento attraverso questa iniziativa dell'Istituto di Studiadellani. Noi infatti speriamo proprio questo, che l'iniziativa di oggi sia la prima di tante. Fare imprenditoria vuol dire avere consapevolezza di come vive il territorio e se si può dare una mano ai piccoli che hanno voglia di fare, che hanno voglia di imparare noi ci auguriamo di poter essere considerati per il tramite attraverso cui queste iniziative possano prendere piede. Volevo profittare anche per dare l'appuntamento invece per il 13 dicembre, per la quarta edizione del Festival Durante e con un evento che si terrà presso il Santissimo Redentore di Fratta Maggiore. Bene, la mia domanda era proprio questa, volevo dire qual è il prossimo appuntamento. Grazie alla professoressa Sonia Del Santo, grazie a Dima Pezzullo, grazie all'Istituto di Studiadellani, grazie all'Istituto Comprensivo Capasso Mazzina. E soprattutto grazie a Fernanda Manganelli che oggi ci ha accolto in Pompavagna, come si suol dire. Bene, grazie, scusate il ritardo.